La 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 se per caso tu ti accorgessi di me in un locale affollato o in fondo di un caffè tra le righe di un giornale oppure per te negli anni sessanta o nel 2000 e nel 2003 si lo so ma presa così se la c'è chi non la troverai spesso in casa pure perché io so magari adesso passa di qua tu vai dove mi va tu vai dove mi va se per caso tu ti accorgessi di me in tasse quello che hai sempre sognato tu vai dove mi va tu vai dove mi va tu vai dove mi va tu vai tu vai dove mi va 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 Grazie a tutti.